L'informazione su Fano TV canale 17 comincia alle 7.30 del mattino con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Buongiorno e benvenuti. Allora partiamo dal santo del giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni, Crisostomo, Vescovo. Il sole è sorto alle 6.45, tramonterà le 19.23. Il tempo per oggi è mercoledì 13 e sarà sereno, poco nuvoloso. Le temperature in lieve diminuzione. Ci saranno venti inizialmente nord-occidentali e saranno moderati lungo la costa. Poi giovedì, giovedì 14, sarà sereno, poco nuvoloso, con temperature in aumento. Venerdì lo stesso, parzialmente nuvoloso, con addensamenti nelle zone interne, possibilità di brevi isolati piovaschi nell'entroterra, soprattutto nel pomeriggio. Per quanto riguarda i prossimi giorni, un flusso occidentale porterà instabilità per il fine settimana e poi addirittura un brusco peggioramento per la giornata di martedì. Troppi migranti. Questo è il tema d'apertura dei due quotidiani, Corriere e Carlino. A Borgo Santa Maria di Pesero c'è stata un'assemblea affollata. La richiesta al prefetto Pizzi bastano 15 ospiti. 100 immigrati sono troppi. A Borgo Santa Maria è Pozzo Alto. La cooperativa non riesce più a gestirli e l'integrazione è impossibile. Il caso invece arriva in Parlamento sulla chiusura dell'ufficio pesarese della Polizia Postale, boom di truffe su internet e dunque l'appello di Baldelli, di Fratelli d'Italia, che chiede appunto di non chiudere la Polizia Postale, l'ufficio della Polizia Postale pesarese. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Sul Carlino, fotonotizia per la folla che ha partecipato il pubblico, i residenti che hanno partecipato all'assemblea di Borgo Santa Maria, preparata anche una petizione per il prefetto e non fa parlare gli assessori. L'appoggio del sindaco Matteo Ricci che dice ai cittadini avete semplicemente ragione, sono troppi gli immigrati qui a Santa Maria. Poi il fisco, lo vedremo tra poco, che chiede all'Arcidiocesi di Pesero di pagare più tasse sugli affitti. C'è questo contenzioso fiscale, la curia replica, siamo in regola, l'accertamento riguarda il 2013 tutte le proprietà degli antireligiosi, applicate le norme del concorrato del 1984 e ci sono già delle sentenze. Poi il richiamo, sempre in prima pagina di un'intervista che il papà dei due minorenni marocchini, parliamo degli stupri di Rimini, ha rilasciato ad una televisione nazionale, dopo due anni tornano puliti. Insomma è una dichiarazione shock che sicuramente non fa bene al clima e aumenta il senso di rabbia profondo, il divario tra gli italiani e gli extracomunitari. Alla fiera i commercianti, la fiera di San Nicola a Pesero che si è conclusa, fai acquisti dagli abusivi, giusta la multa, mentre lo ricordiamo oggi iniziano le materne, i nidi, si parte sotto il 10% i non vaccinati. Queste le prime fagini in apertura, però vi raccontiamo attraverso i titoli naturalmente una storia che trova spazio sui due quotidiani questa mattina, la storia di una donna, di una nonna che scrive al Papa per rivedere il suo nipotino di 4 anni che è stato affidato alla madre che vive in Texas. Il papà che è in Italia non può portarlo qui nel nostro paese. Sabrina Marinelli nel Corriere lo scrive bene questo articolo e racconta tutta la storia. E al Papa cosa chiede questa donna, questa nonna? A Natale vorrei vedere mio nipote. Le tappe di questa vicenda per farvela capire e per farvi incuriosire soprattutto, quindi acquistare il giornale questa mattina e leggervelo con calma e farvi dunque un'idea. La mamma il 6 aprile del 2016 fugge di casa e porta con sé in Texas il piccolo di 4 anni. Nell'agosto di quest'anno l'appello del padre per ottenere la custodia del bambino, la mamma è cresciuta, addirittura si scrive in una setta. La nonna scrive ieri al Papa Francesco pregandolo di intercedere per loro e il 13 novembre l'ultima udienza per l'affidamento del bimbo che oggi ha 4 anni. È una lettera toccante, lei scrive al Papa e dice accenda una speranza nelle nostre vite, faccio in modo che se è possibile appunto questo mio nipote possa, che è stato battezzato in Italia secondo appunto il rito di Santa Romana Chiesa, possa tornare perlomeno in Italia per un breve periodo per riabbracciarlo. La stessa cosa scrive il Corriere, il resto del Carlino. Caro Bergoglio aiutami a riabbracciare mio nipote, il bimbo è negli Stati Uniti, salviamolo dalla pedofilia. La nonna di questo bambino, Vittoria Santini, scrive al Papa Vittoria Santini Capiello, Capiello la vedete in questa fotografia, scrive questa lettera. La mamma è cresciuta fino a 16 anni in una setta in cui alcuni adepte hanno trascorsi di pedofilia così come il suo patrigno. C'è questa battaglia legale che è iniziata il 6 aprile quando questa donna ha portato via con sé, si è portata via questo bambino. Poco dopo i giudici le hanno affidato il figlio, il 13 novembre c'è questa udienza decisiva. Fanno invece sul resto del Carlino che cosa fare dell'ex area dove c'era una volta il distributore dell'Agip. Qualcuno sta tornando alla carica sta dicendo in quell'area, adesso ci sono le bonifiche, i lavori, torni il giardino anni 30. Com'era questo giardino negli anni 30? Eccolo qua in questa fotografia, com'era il giardino della Corridoni con la fontana che tra l'altro questa fontana oggi è al porto, prima che venisse costruito il distributore. Chiaramente è una foto in bianche e nero, una foto storica, una foto bellissima, vedetela un po' a colori, ma cercate di immaginarvela a colori e cercate un attimo di adattarla anche ai nostri tempi. Il comune verifichi se tocca all'ex gestore del carburante rimettere nel posto dove era appunto la fontana. Andiamo un attimo a Pesaro perché come avete visto in apertura c'è la notizia che il fisco si scaglia contro la chiesa e chiede adesso 150 mila euro. Avete evaso le tasse, dice il fisco, ora pagate nel mirino i contratti d'affitto della diocesi. Al centro del confronto ci sono le agevolazioni sulla aliquota Ires. L'economo del Consiglio, arrabbiato, scrive il giornale del Consiglio diocesano, dice vogliono renderci più fragili, vogliono una chiesa più fragile. E questa è la pagina del resto del carlino. Andiamo invece adesso a pagina 7, la campanella suona con o senza vaccino. Oggi primo giorno nelle classi dell'infanzia e ne adempiente solo l'8% delle famiglie. Ceccarelli dice dati incoraggianti, netta minoranza, i genitori senza certificazione. La situazione evolve veloce, i numeri sono ballerini, ieri di 441 bambini iscritti alla scuola, insomma i nidi, 10 solo erano sprovvisti di dichiarazioni. Questa è la notizia sul resto del carlino. Apriamo adesso invece il Corriere sulla pagina di Fano. C'è la politica e la sanità sulla pagina fanese del Corriere. Ora il silenzio di Seri, il sindaco, scatena il centrodestra. Non reagisce. Santa Croce e sede a Revasta, sotto attacco le critiche dei consiglieri comunali e di Fratelli d'Italia. Nel mirino anche il sindaco di Fossombrone che replica, altri hanno parlato per me. E sotto poi i volontari della Proloco favoriscono 83 mila presenze, organizzati 30 eventi culturali e 6 feste di quartiere, mobilitate 1000 persone. La scuola materna Galizzi, guardate le fotografie che pubblica il giornale questa mattina, la scuola materna Galizzi nel degrado le foto dello scandalo, denuncia del centrodestra, uno scempio per Fano che si definisce città dei bambini, le pessime condizioni delle pareti. Guardate le foto, ecco qua le pareti della scuola e sotto i rimedi contro le infiltrazioni d'acqua con degli stracci buttati da bene meglio. Insomma, asciugamani alle porte per evitare all'ingresso che entri l'acqua, intonaco e vernici cadenti alle pareti. La cronaca invece, anzi la cronaca dopo, nell'altra pagina queste invece sono i murales con il sindaco che posa davanti a questo murale che è stato dipinto a Sant'Orso, realizzato da Smog One, questo è il nome del giovane artista, quotato in America, che è America che ha lavorato gratuitamente per tre giorni. Ancora foto a tutta pagina sul Corriere, questa volta così integrazione impossibile, a Borgo non più di 15 profughi, oggi sono oltre 100 su 3.700 residenti, siamo di nuovo a Pesaro, la richiesta della folottissima assemblea al prefetto che dice, insomma, si chiede a lui di intervenire perché così sono effettivamente troppi. Dalla Valle del Cesano raggirano una pensionata, camuffandosi da vigili urbani, la donna avvicinata all'uscita di una casa e poi ingannata con l'esca della causa legale. Siamo a Marotta ed erano, pensa, travestiti da vigili urbani, quindi anche rischiando grosso, travestiti da vigili urbani hanno aspettato un'anziana signora all'uscita di casa per truffarla. È successo l'altro pomeriggio a Marotta in via 4 Novembre nella zona della stazione dove vittima di questo raggiro è stata una pensionata del posto truffata con l'inganno da una coppia di balordi che si era camuffata travisandosi con false divise da agenti della polizia municipale. I familiari poi della donna hanno avvisato il 112 però per ora non ci sono novità. I carabinieri stanno cercando ma non hanno ancora trovato nessuno. L'anziana ha dato dei soldi incontanti a questi due falsi poliziotti il fatto compreso solo parlando con i figli, solo parlando con loro. Allora Don Federico, Don Federico Affano, Don Luca la terza parrocchia. Allora la staffetta, la staffetta San Lorenzo in campo. Don Filippo arriva a Pergola mentre Don Sesto è andato a riposo. Si parla in questo articolo che riguarda l'entroterra dei vari avvicendamenti, dei vari spostamenti che ci sono stati in questi giorni, in questi primi giorni di settembre nelle varie parrocchie della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Sanità e debiti fuori bilancio, niente risposte dal sindaco, il capo della minoranza incalza Sebastianelli, non c'è stato l'efficientamento del comune. Siamo a Terre Roveresche, alla vigilia dei primi 100 giorni del nuovo sindaco Antonio Sebastianelli. I temi caldi sul tappeto per la minoranza sono diversi e si fa portavoce di questi problemi il capogruppo Maurizio Cionna. Da Senigallia invece il maltempo ancora tiene banco in primo piano, vasche di espansione e tombini, tutto fermo dopo l'alluvione, non bastano 120 mila euro per pulire le caditoie, lunedì l'ennesima emergenza. E poi la triste storia di una donna di 46 anni che si chiamava Jessica e che è morta, fondò le Barba Mamme. L'architetto Micucci Mancini è stata consigliere comunale a Barbara, lascia due figli. Il paese è in lacrime per Jessica che è morta a 46 anni per una grave malattia. Jessica Micucci Mancini, figura centrale ed amatissima a Barbara. Il giovane architetto era stata consigliere comunale con l'amministrazione Capotondi ed aveva animato anche una molteplicità di iniziative di stampo sociale, prima fra le tante la costituzione appunto dell'associazione Le Barba Mamme di cui è stata per più mandati anche presidente. Vediamo se riusciamo a darvi anche il giorno del funerale. Ok, non sono riuscito a evidenziarlo. Da Urbino, Palazzo Ducale a regola d'arte per premiare chi sperimenta, firma dell'Accademia del concorso nazionale nelle sezioni figurative, digitali e scenografiche. Questa è la pagina del resto del Corriere Adriatico di Urbino, mentre l'ultima storia è quella che prendiamo dal Carlino Fossombrone Cagliurbania. Storia, vita e miracoli di Franco Nicoletti. Il sabato fascista, la guerra e il successo con il ristorante al lago. La biografia del Novecento. A 13 anni cominciai a fare i cesti di vinco e canna e a rivestire il damigiane. Si parla di questa vita coraggiosa e difficile di un italiano non illustre. La vita è l'autobiografia di un forsempronese che si chiama Franco Nicoletti, che per il suo 87esimo compleanno si è regalato appunto questo libro. Il testo è stato trascritto e ampliato da Renzo Savelli, ma c'è anche l'immediatezza della presa diretta. È un racconto ruvido e spoglio che Nicoletti a suo tempo affidò a 12 pagine fitte e scritte su carta intestata del ristorante al lago, che ancora c'è. Questa è la copertina invece del suo libro, ecco qua, ve lo evidenzio, che è di prossima uscita. Ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Stasera alle 20.30 c'è Occhia la Notizia e questo è il numero al quale potete inviarci le vostre segnalazioni. Buona giornata.